eh vediamo cosa hanno tagliato oggi dai niente come al solito no c'ha anche scartato e oggi il bonus di puntata va al ristoratore che c'ha la cameriera pignocca che magari mentre prende le ordinazioni postra generosamente il decoltè non è quello il bonus rifacciamo dai ma che decidi sempre tu non capito ci abbiamo i dittatori è un conto cazzo però certe cose magari ristoratori hanno portato come antipasto delle olive ma si sono dimenticati di portare anche il piattino per gettare i noccioli ma in questi casi non c'è problema si fa l'antica ma non si fa la vecchia sono 5 euro chiavi e poi scartano certe cose grazie a un lungo lavoro di ricerca abbiamo trovato un'antica ricetta etrusca che pensate un po' era già scomparsa in epoca romana ci tengo molto a suo parere chef ma secondo te antichi ramani sono coglioni che hanno smesso di falla sta roba ci ha fatto la ricerca ci ha fatto ma si porta da via sta cagata ma no caro Daniele sei il vincitore ha vinto ecco di qua 5 mila euro da investire nella tua attività poi se invece ne vuoi investire nella tua attività ci vuole una mignota ma no fai come vuoi basta e ti diverti non è che possiamo controllare quello che ci fai sono tuoi i sordi dopo cliente ha vinto bene viene rifacciamo 8 finale controllavo dice controlla ciao 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 ciao